Venerdì 19 marzo 2016 al Lucca Museum di Lucca ovviamente è stata inaugurata pochi minuti fa la mostra La tela violata, una mostra di grandi maestri contemporanei Fontana, Castellani, Bonalumi, Burri, Scheggi, Simeti, Amadio e l'indagine fisica della terza dimensione. Questo è il sottotitolo della mostra scelto dal direttore artistico del Lucca Museum Maurizio Vanni che vorrei invitasse i nostri telespedatori a questo importante evento che oggi ha visto all'inaugurazione anche la presenza del primo cittadino di Lucca. Ma è interessante come il sindaco e il sovintendente dei beni culturali abbiano voluto raccontare e manifestare il punto di vista di una mostra che è interessante, è un frammento di storia dell'arte importante, forse fondamentale per comprendere e vivere l'arte contemporanea, fatta da persone che conoscono la storia dell'arte e non ci sono tirati indietro davanti ad artisti forse meno facili. Sicuramente più intraprendenti, più forti, più decisi. Rivoluzione fisica? Questa è una vera rivoluzione fisica Fabrizio? Tu hai pubblicato anche il catalogo in occasione di questa mostra che i visitatori troveranno ovviamente qui al bookshop. C'è tempo per venire a visitare la mostra ma insomma converrebbe venire a vederla e probabilmente anche rivederla una seconda volta dopo aver letto il catalogo. La mostra dura tre mesi, 19 giugno, ma è una mostra che va vista più volte. Si parte da Fontana che arriva in Italia nel 1946 da Mepesso Blanco, si incontra Burri, arrivano le estroflessioni di Burri con i Gobbi. A Milano 59-60, Azimut, spazio espositivo e Azimut rivista. Entrano in scena Manzoni, Castellani e Bonalumi. Poi un fiorentino importantissimo, forse dimenticato, Paolo Scheggi, che con le sue interdimensioni non ha niente da invidiare a nessuno e manifesta e porta avanti i suoi studi. E due artisti viventi, giovani settantenni mi diverto a dire, Simeti e Amadio, due artisti che manifestano la continuità di persone che cominciano a pensare a una tela non come spazio rappresentativo ma come getto pregno di eventi. Uno spazio autoreferenziale, uno spazio che si concede solamente a chi ha il coraggio, non di vivere emozioni. Non c'è più l'istinto dell'automatismo psichico, c'è il desiderio di considerare la tela come un oggetto autoreferenziale, come un qualcosa che attraverso un taglio, un buco e un'estroflessione prende consistenza in modo impersonale di fronte alla vista tattile degli spettatori. Un altro importante ospite del Vernissage è il pittore ed ex campione olimpionico di ciclismo Marcello Bartalini. Ancora qua nel Lucca Museum sono in esposizione al piano terreno le sue opere, un appendice della grande mostra ospitata nell'intero edificio fino a qualche settimana fa. Oggi alla stampa è stata data una notizia importante, Marcello sarà protagonista di una grande mostra personale in occasione dell'arrivo della tappa toscana del prossimo Giro d'Italia a Campi Bisenzio. Quindi ci daremo l'appuntamento, l'arrivederci con Marcello. In quell'occasione ci saranno tanti importanti ciclisti della tua generazione ma anche quelli delle generazioni successive e anche forse quelli delle generazioni precedenti perché Roberto Poggiale ha già dato la sua disponibilità ad essere presente. Insomma sarà una bella festa di arte e di sport. Sì sarà una festa bellissima, anzi io ringrazio per l'invito il Comune di Campi e poi questa è stata la più bella notizia del giorno. Insomma sono molto contento, sono contento, felice e quel giorno ci sarà anche modo di ricordare un grande del ciclismo del passato che non c'è più, se lo vogliamo dire. Diciamolo Gastone Nencini perché Gastone ha fatto veramente tanto perché il ciclismo non è stato solo Bartari, Coppi, Magni, Baldini e tanti altri. Anche Gastone Nencini ha fatto grandi cose. Lo vogliamo ricordare e sarà una grande sorpresa per tutti. Quindi noi invitiamo tutti gli sportivi italiani al Giro d'Italia il 17 maggio è la data di questo evento. Comunicheremo con qualche giorno d'anticipo anche l'orario dell'inaugurazione ovviamente dovrà essere compatibile con l'arrivo del plotone e quindi con tutti gli addetti al seguito. Non ci saranno solo campioni del ciclismo ma anche i giornalisti importanti, quelli che raccontano le gesta epiche dei ciclisti. Ci saranno grandi sorprese, non possiamo anticipare niente e poi bisogna vedere se coincidono tanti fattori. Quindi noi concludiamo il servizio da Lucca dando un arrivederci a Marcello Bartalini al prossimo 17 maggio a Campi Bisenzio in occasione dell'arrivo della tappa del Giro d'Italia per l'inaugurazione della sua mostra personale.